Si è svolta stamane a Fondachello di Mascali una conferenza stampa del sindaco Luigi Messina che ha presentato i passaggi pedonali rialzati in fase di collocazione nella frazione marinara. Questi dispositivi di sicurezza vengono realizzati in sinergia con i privati commercianti di Fondachello. Ai nostri microfoni il primo cittadino mascalese illustra la realizzazione dell'importante opera per la sicurezza stradale pedonale. Sono utili per la sicurezza dei pedoni e inoltre metto in evidenza una collaborazione tra il pubblico e il privato. Grazie ai locali che ci sono in quest'area stiamo realizzando questo primo passaggio pedonale che sono il Bar Orizzonte, i Fratelli Spina, l'altro nuovo locale che ha aperto The Queen che insieme in sinergia con il Comune stanno realizzando questa. Dall'altra parte è stato realizzato un altro passaggio pedonale rialzato da parte del ristorante Il Pescatore e successivamente quello da parte dell'iceberg, l'altro bar che è successivo a questo. Questo serve tutto a rallentare la velocità in una strada che spesse volte magari vede scene un pochino difficili perché qualche persona che non rispetta i limiti di velocità condiziona la fruibilità nella sicurezza della strada. Ma l'elemento importante è quello che ho detto prima, cioè la sinergia che viene ad attuarsi tra il pubblico e il privato. Loro stanno realizzando la parte dell'asfalto, noi realizzeremo la segnaletica verticale e orizzontale che darà e metterà in evidenza il passo pedonale rialzato. Il sindaco Messina afferma inoltre che l'amministrazione vuole realizzare queste stesse opere in tutto il territorio comunale così da assicurare ai cittadini mascalesi la massima sicurezza pedonale. Noi come amministrazione speriamo, avendo il bilancio nuovo al più presto, speriamo di averlo nei prossimi mesi, di realizzare questo stesso tipo di lavoro in tutte le scuole del territorio, davanti alle scuole, è il nostro desiderio e anche in luoghi che magari c'è maggior pericolo come via Roma, la strada dinunziata via Etna. Ci sono luoghi che sono importanti dove rallentare la velocità.